Intelligenza artificiale e il calcio. Non pensavo sarebbe stato qualcosa di così rapido, però qualcuno mi sta cercando in privato per chiedermi se utilizzare ChatGPT sia utile per fare gli allenatori, quindi per avere esercitazioni, per avere informazioni. Oggi andiamo a scoprirlo. Prima di continuare però ti chiedo di iscriverti al canale. Quindi cerchiamo di capire se ChatGPT ci può suggerire delle esercitazioni o sedute di allenamento. Impostiamo già una domanda che secondo me è sbagliata dal principio, cioè crea una seduta di allenamento. Perché è sbagliata? Principalmente perché senza informazioni, senza dire magari che cosa vorresti curare in questa seduta, è un po' qualcosa di troppo generico. Però mettiamo inizialmente alla prova ChatGPT e vediamo cosa ne esce fuori. E infatti ChatGPT ci sta già mettendo qualcosa di molto generico, però vediamo una seduta di 90 minuti. Vediamo un riscaldamento di 15 minuti con inizialmente corsa leggera di 5 minuti, quindi corsa attorno al campo, stretching dinamico con affondi, skip, calci alti, rotazioni delle anche, esercizi con la palla, passaggi semplici e controllo della palla in coppia. Abbiamo esercizi tecnici, 20 minuti, quindi dribbling, 10 minuti, slalom tra i coni, sia colpi da destra che con il sinistro, passaggi e controllo, sempre in coppia in gruppi di 3, per migliorare precisamente il passaggio e controllo palla. Esercizi tattica, posizionamento e movimenti senza palla, quindi esercizioni di posizionamento per migliorare la comprensione del gioco e il movimento senza palla. Gioco di posizione, partitelle a tema, 5 contro 5 in spazi ridotti. Esercizi fisici, allenamento della velocità, scatti brevi con recupero attivo, circuito di forza, prima della partita finale. Eh, qui già mettere la roba pesante, forza, velocità. Praticamente a fine seduta qualcuno potrebbe non concordare. Generalmente vengono fatte all'inizio, comunque dopo ovviamente di scaldamento. Più partitella finale, 15 minuti, poi defaticamento e stretching. Quest'ultima parte però importante, ottima che l'abbiamo messo. Andiamo a vedere se più nello specifico ci può essere più utile. Quindi ci ha messo esercizi tattici, mettiamo il primo, quindi cerchiamo di approfondire maggiormente questo tema. Posizionamento e movimento senza palla, durata 10 minuti. Materiale coni, pallone, pettorine. Quindi 3 coni, triangolo equilatero di circa 10 metri, più quindi giocatori. Ci deve essere un cono per ogni giocatore, più un calciatore al centro del triangolo. Quindi si fa in 4. Il giocatore con la palla A passa ad uno dei giocatori ai coni B. Il giocatore che riceve la palla, B, deve immediatamente passare ad un altro giocatore al cono C, ma senza tornare indietro al giocatore A. Dopo aver passato la palla, il giocatore A si muove velocemente per prendere una nuova posizione libera, sempre rispettando la forma del triangolo. Qui si parla di prendere una nuova posizione libera, quindi immagino che chi passi la palla debba andare nella nuova posizione. Questa esercitazione non è niente di nuovo, è anche un po' scritta male, però andiamo avanti, vediamo come continua. Creazione di spazi e movimenti di smarcamento. Due gruppi, uno dentro quest'area da 20x20, l'altro gruppo fuori con la palla. Quindi i giocatori all'esterno devono passare il pallone ai compagni all'interno. I calciatori all'interno devono liberarsi e posizionarsi in modo da ricevere la palla in una posizione vantaggiosa. Dove aver ricevuto la palla va restituita al compagno all'esterno e si muove per liberarsi di nuovo. Ecco, questa non mi piace granché perché in questa esercitazione non si è dando direzionalità innanzitutto. Quindi ci si muove a destra, a sinistra, davanti, dietro, ovunque, senza che ci sia un senso alla fine. Quindi si va sempre a cercare chi ti può dare la palla. Però non stai pensando se andare avanti, a destra, a sinistra o quant'altro. C'è l'aspetto, sì, del movimento, quindi andare a cercare di nuovo un altro compagno. Però è anche vero che non sei marcato da nessun altro avversario. Quindi questo movimento può essere anche fine a se stesso. Quindi questa esercitazione non mi è piaciuta granché. Però cerchiamone altre. A proposito di calciatori che si devono far vedere e ricevere il pallone, cerchiamo magari un'esercitazione per i centrocampisti. Ho chiesto quindi se può creare un'esercitazione per migliorare il mio centrocampista centrale nello smarcamento. Vediamo cosa ne esce. Gioco di posizione con smarcamento. Area di 20x20, 4-5 calciatori ciascuno. Cercare il centrocampista centrale e disporre i coni per formare 4 quadrati interni. 5 metri per 5 metri ciascuno. All'interno dell'area principale, ovviamente. Ecco, già da qui non mi trovo d'accordo con questo. Nel senso, con il numero dei quadrati all'interno. Principalmente perché quando vengono creati questi quadrati o comunque altre figure, bisognerebbe formarne una in più dei calciatori in campo, quindi di una squadra ovviamente. In questo caso sono o pari o anche meno dei calciatori che ci sono, quindi o 4 o 5. Principalmente perché formarne una in più? Si potrebbe trovare il calciatore un po' più furbo che magari per risparmiare fiato, per stanchezza, per furbizia stessa. E un po' più preoccupato del quadratto piuttosto che dell'uomo da marcare, da pressare o altro. Quindi tendenzialmente cerca di coprire solo quel quadratto e di evitare e far evitare il passaggio per il centrocampista centrale in questo caso. Perché nelle esecuzioni, infatti, c'è il fatto che il passaggio deve essere fatto dentro il quadrato al centrocampista centrale, quindi al calciatore che dobbiamo migliorare. Quindi tendenzialmente se si formano 4 quadrati con 5 calciatori, mettiamo così, tendenzialmente quei quadrati potrebbero essere spesso occupati. Quindi in caso di 6 quadrati ce ne sarebbe comunque uno libero e anche se qualcuno dovesse fare un po' più il furbo, ce ne sarebbe comunque uno da trovare. E lì magari miglioreresti la visione di tutti, non solo del centrocampista che vuoi migliorare, anche degli avversari che non devono più coprire solo un quadrato a testa, ma devono coprire neanche uno in più. A volte anche due. E comunque c'è inferiorità numerica. Sarebbe un'esercitazione bellina, tranne questo, a mio parere. Poi magari qualcun altro si trova più o meno d'accordo con quello che ho detto. Vediamo invece se conosce magari qualche esercitazione, qualche seduta di allenamento dei professionisti. Non dico che ce l'ha fatto uguale, però quasi. Quindi sempre il solito riscaldamento, dribbling all'inizio, partita da tema. Ecco, questi esercitati ci sono stati cambiati, però poi di nuovo mette il circuito di forza e di velocità prima della partitella. Però alla fine, niente di che. Qui mette focus su transizioni rapide, posizionamento difensivo e attacco rapido. Approfondiamo. Ci parla di metà campo con due porte, 8-10 giocatori per ciascuna squadra, quindi spazi abbastanza ridotti, più una zona centrale di circa 15 metri di larghezza per le aree di transizione. Vediamo queste aree di transizione cosa sono. Fase di attacco, la squadra in possesso di palla deve cercare di avanzare rapidamente attraverso la zona di transizione e creare un'opportunità di attacco. L'obiettivo è segnare un gol in più rapidamente possibile una volta attraversata la zona di transizione. Quindi una volta superato più o meno il centro campo, bisogna segnare subito. Quando la squadra perde il possesso della palla, deve rapidamente riposizionarsi per difendere e impedire l'attacco avversario. I giocatori devono rientrare rapidamente nella zona di transizione e posizionarsi correttamente per interrompere l'attacco avversario. Niente di che, quindi. Fase di difesa, la squadra che recupera la palla deve effettuare una transizione rapida dalla difesa all'attacco. Cercano di avanzare attraverso la zona di transizione e creare una nuova opportunità di attacco. L'obiettivo è sfruttare la disorganizzazione momentanea della squadra avversaria per creare un'opportunità di gol. Alla fine sono semplici contropiedi in cui metti al centro una zona di transizione e viene chiamata lì da attaccare subito. Però niente di che. C'è l'incentivo dei punti extra per gol fatti entro 10 secondi, enfatizzare la velocità, però niente di che sinceramente. Potrei continuare a fare miliardi di domande a CiaGPT per esercitazioni o altro, però tendenzialmente a mio parere non serve a niente. Possono esserci magari esercitazioni che ti possono dare qualche spunto, qualche chiarimento o qualcosa, però nessuno, nessuno tranne te conosce bene la tua squadra, quindi conosce ciò che devi fare, ciò che devi migliorare, i punti di forza, i punti ovviamente di difetti, tutte queste cose. E con esercitazioni un po' automatiche, un po' fatte come se dovessero valere per tutti, a mio parere sono stra-sbagliate. Quindi o si cerca di essere molto più precisi per favorire questo strumento CiaGPT o altre intelligenze artificiali, o usato in questo modo, a mio parere fa più danni che altro. Quindi il mio consiglio è non utilizzatele, se vanno usate in quel modo. Se invece riusciamo a essere molto più precisi, magari ci potrebbe essere anche l'opportunità di migliorare tutto ciò. Secondo me ad ora CiaGPT non è ancora pronto. Ho voluto fare delle prove fingendo calciatori che non esistono, con caratteristiche ovviamente inventate, e anche qui troppo generico, quindi qualcosa che non andava bene. Il mio consiglio quindi è fai per te, non contare su altri che ti creano, ti fanno esercitazioni, perché queste persone, io incluso, non conosciamo la tua squadra, non conosciamo i tuoi calciatori, le tue calciatrici, i tuoi giovani, i tuoi bambini, non li conosciamo. Quindi non possiamo dirti fai questo, fai questo, fai questo in modo standard, perché non tutto può andar bene per tutti. Dimmi cosa ne pensi, iscriviti al canale e ciao a tutti da Mondo Calcistico. Ciao a tutti.